La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno, buon lunedì e bentrovati con il nostro appuntamento consueto con la rassegna stampa di Uno News. Vediamo quindi quali sono i principali titoli e le principali notizie pubblicate sui quotidiani in edicola questa mattina. Andiamo sul mattino nazionale, sulla prima pagina del mattino nazionale, si torna a parlare in primo piano della guerra in Medio Oriente. Vediamo quali sono le novità, purtroppo ancora una volta non belle per quanto riguarda proprio la guerra che si è sviluppata ormai da diversi mesi in Medio Oriente. Vediamo soldati USA uccisi in Giordania. Il titolo con cui apre oggi il mattino per quanto riguarda proprio gli sviluppi nella guerra, attacco con i droni dei filo iraniani, tre morti e trenta feriti, prime vittime americane dopo il 7 ottobre, ossia la data in cui è iniziata la guerra. A Istanbul, chiesa italiana assaltata da killer mascherati, assassinato un uomo, il dolore del Papa. E poi gli articoli correlati, lo scenario Marrosso, l'Occidente non abbassi la guardia, mentre per la conferenza via il vertice Italia-Africa, Mattarella avanti insieme. Ci spostiamo ora di fondo l'analisi, le strategie della politica lontane dalla realtà e poi la riflessione, la posta in gioco del voto per l'Europa. A centro pagina invece lo sport, ampio spazio proprio allo sport, ieri l'importantissima vittoria arrivata dopo decenni per l'Italia, la vittoria di Sinner agli Australian Open. vediamo Sinner da Reco, si titola il mattino, Yannick rimonta e trionfa in Australia, primo slam dopo 48 anni, quindi dalla vittoria di Adriano Panatta. Invece per quanto riguarda il calcio riesce a portare a casa un punto il Napoli in Serie A, nonostante le numerosissime assenze tra infortunati, ma anche per quanto riguarda proprio gli espulsi, con la marea di cartellini gialli che l'arbitro della finale di Supercoppa aveva assegnato ai giocatori azzurri. Vediamo Napoli troppi assenti con la Lazio e 0 a 0. Spostiamoci in basso, sisma nell'area del cratere, tornato l'incubo del 1980, una scossa di magnitudo 3.8 tra Salernitano e Basilicata, tanta paura a Ricigliano, ieri in provincia di Salerno a ridosso della Basilicata per il terremoto di magnitudo 3.8 avvertito nella mattinata. La scossa, dice il sindaco di Ricigliano, ci ha fatto ricordare i momenti vissuti per il sisma del 1980. E poi il lavoro di DLB Partisan, previsti sostegni a chi assume donne vittime di violenza. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, andiamo avanti, vediamo invece quali sono i titoli per la prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo, in apertura si parla della scuola, dei dati ancora non proprio confortanti per quanto riguarda soprattutto la dispersione scolastica. Vediamo infatti il titolo con gli ultimi dati emersi in merito proprio ai ragazzi che frequentano le scuole, alunni in fuga, un caso al giorno. Questo il titolo, non frequentano le elezioni segnalati ai giudici, sono 336 su 1626 bocciati nel 2023. Dispersione scolastica, numeri da paura, ma c'è una flessione grazie agli interventi sul disagio sociale. E poi il dossier, quei baby bulli sempre più violenti, la movida ed in famiglia. Anche qui troviamo la notizia, siamo di spalla relativa alla scossa di terremoto avvertita ieri a Ricigliano, vediamo la terra trema nel cratere, conviviamo con la paura. Queste le parole invece dei cittadini della zona. Andiamo di fondo, la politica, Forza Italia, le regionali sono la madre di ogni battaglia. Roberto Celano è stato nominato coordinatore provinciale, Francesco Pastore coordinatore vicario e Pasquale Aliberti presidente provinciale per Forza Italia. Andiamo avanti, ancora la politica, stati generali nel Cilento, il centrosinistra da Forfè. Per le notizie di Portate a Centropagina, la cronaca, schianto in auto, muore a 62 anni e caccia al pirata. La tragedia nell'Avellinese, la donna di Pagani potrebbe essere stata mandata fuori strada da un'altra vettura. E poi il raid a Capaccio, bottigliate ai carabinieri per far fuggire l'amico Puscher. Nella fotonotizia parliamo invece della Salernitana, questa sera il match importantissimo per il prosieguo in campionato per la Salernitana che giocherà contro la Roma. Vediamo Candreva e Besic, profumo di derby. Stasera la sfida con la Roma, De Rossi, curioso della Rechi. Andiamo poi in basso, punti di vista, il cardinal Seripando raccontato da Vitale. Questi invece i principali titoli per il mattino di Salerno. Vediamo ora come apre il quotidiano Le Cronache. Quindi spostiamoci sulla prima pagina del quotidiano Le Cronache. Vediamo in apertura si parla di politica con la nomina per il coordinamento di Forza Italia. Vediamo Celano è stato nominato coordinatore di Forza Italia verso le regionali. Martusciello lancia la sfida, è la madre di tutte le battaglie. Questo per quanto riguarda, come abbiamo visto anche dalle pagine del mattino, questo per le elezioni regionali. Andiamo avanti. Le commissioni da remoto e io pago gettoni di presenza 41.833,75 euro nel solo mese di dicembre del 2023 per i consiglieri. Andiamo di fondo, Forza Italia, Gasparri attacca e i giudici facciano la loro parte, potevano vigilare di più a Salerno. E poi ancora le altre notizie, siamo a centro pagina, granati rimaneggiati e senza rinforzi ma ci proveranno. Roma non fa la stupida stasera, la salernitana servono i tre punti. E poi il caso di Agropoli, il giallo dell'associazione Testene, tra richieste e tanti contributi. In basso, Salerno, Nicoletta Napoli, la mia libreria antiquaria. Il personaggio, Emanuele Cavaiolo, capra selvatica ed erbe spontanee. E ancora parla Gino Sorbillo, pizza all'ananas, ci voleva pizzaiolo napoletano. Questo per le notizie in breve. Quindi chiudiamo anche la prima pagina del quotidiano Le Cronache. Torniamo ora sul mattino nazionale. E parliamo, vediamo le notizie in primo piano. Si parla, come abbiamo visto, anche dal titolo di apertura del mattino nazionale della guerra in Medio Oriente. Infatti ci si concentra proprio sugli sviluppi della guerra. Vediamo Raid dei filo iraniani con i droni, tre soldati USA, morti e 30 feriti. Colpito a una base al confine tra Siria e Giordania, prime vittime americane dalla strage del 7 ottobre. Il presidente Biden, i responsabili pagheranno, i repubblicani spingono per una reazione militare. Nella regione si rischia l'escalation, ma la Casa Bianca vuole evitare un'estensione del conflitto. Andiamo poi in basso. Il caso Ostaggi, positivo il vertice di Parigi, ma resta il nodo del cessate il fuoco. I terroristi chiedono che l'esercito lasci la striscia. Tel Aviv apre solo a una sospensione a tempo delle operazioni. La trattativa decisiva è cominciata. A Parigi ieri si sono incontrati il capo del Mossad, David Baranca, il direttore della CIA Barnes e il primo ministro del Qatar, Mohamed Bin Abbal Altani e il capo dell'intelligence dell'Egitto, Camel. In Francia non possono essere presenti i negoziatori di Hamas, per cui l'esito del confronto sarà poi illustrato ai leader politici dell'organizzazione palestinese. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti ancora sul mattino nazionale. Vediamo ora, sempre per quanto riguarda i titoli e le notizie principali riportate tra le pagine di primo piano, il caso per quanto riguarda la questione dei rapporti Africa-Unione Europea. Vediamo Mattarella, Africa e Unione Europea insieme vanno lontano. Meloni, rapporti paritari. A Roma la conferenza con i 25 capi di Stato e di Governo per lanciare il piano Mattel. Il piano Mattei, scusate, cena al Quirinale, c'è anche Wunderlein e Bruxelles promuove l'iniziativa italiana. E qui vediamo la foto di gruppo con i 25 capi di Stato e in primo piano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Vediamo oggi il Summit al Senato, il Premier avrà incontri bilaterali con il tunisino Sayed e il libico Beyan. E poi i numeri, 4 miliardi lo stanziamento che il Governo italiano ha destinato per i prossimi 5 anni agli investimenti previsti dal cosiddetto piano Mattei per lo sviluppo dell'Africa. 2,4 miliardi è la somma complessiva investita dall'Enel dal 2016 a oggi per progetti mirati alla produzione di energia pulita nei paesi africani. Andiamo in basso, Tunisia svolta dopo i fondi dell'Unione Europea, un'area SAR per fermare i migranti, finora era l'unico paese del Mediterraneo che non prevedeva una zona di intervento sulle partenze. Prosegue il rallentamento degli sbarchi in Italia più che dimezzati rispetto al gennaio 2023. Andiamo avanti ancora, sempre sul mattino nazionale, vediamo le novità che arrivano per quanto riguarda le misure varate dal Governo. Vediamo dalla carta d'identità la tessera sanitaria e il portafoglio è digitale. In arrivo sull'app Io, Lit Wallet, gratuito per tutti i maggiorenni, il via libera è atteso per mercoledì con l'ok al nuovo decreto sul PNRR. Tra la fine del 2024 e il prossimo anno 2025 sono poi attesi nuovi e-wallet pubblico-privati per i professionisti, inclusione metà richieste da Sicilia e Campania. Cambiamo argomento, siamo in basso, la svolta comunità energetiche, c'è il bonus sul 40% dei lavori, pronte le tariffe scontate, si potranno ricevere gli incentivi da aprile ma sono a rischio alcuni impianti che erano già stati collegati. E chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti ancora sul mattino nazionale, si parla della scossa di terremoto che si è avvertita nel Salernitano, vediamo scossa 3.8 nel Salernitano e l'area del cratere del terremoto dell'80, la terra ha tremato sul confine Lucano, il sindaco tanta paura ma nessun danno, in tanti si sono riversati per strada e racconto abbiamo sentito un sibilo, epicentro argiciliano, 32 centri coinvolti nel giro di 20 chilometri. Andiamo in basso, Andrea sgozzato in casa, mistero, il coltello utilizzato non si trova, siamo a Varese, il 26enne potrebbe avere aperto la porta al killer, mancano oggetti d'oro e proseguono le indagini. Lasciamo anche questa pagina, ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati con la seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo sulle pagine del mattino di Salerno, quindi approfondiamo i temi che interessano il Salernitano, in particolare la politica, in primo piano si parla del congresso provinciale di Forza Italia, ci sono state le nomine del presidente e del coordinatore del partito, vediamo che era presente anche Martuscello e l'onorevole Gasparri, vediamo Forza Italia pronta per le europee ma le regionali 2025 sono la madre di ogni battaglia. Il neocoordinatore Celano, liberiamo la campagna da un potere che ha fallito, queste le parole, e poi il leader regionale Martuscello, Salerno ha un ruolo fondamentale contro De Luca. L'omaggio di Gasparri a Enzo Fasano, Comuni, l'avviso a Fratelli d'Italia serve rispetto per la coalizione o andremo da soli. E poi andiamo avanti ancora per quanto riguarda invece le notizie della politica del centro-sinistra, gli stati generali del Cilento, da Forfè tutto il centro-sinistra, avanti coi piani di sviluppo. Bora Vitacola e Alfieri non si presentano all'iniziativa di Terre del Cilento, partecipano esponenti di Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle e tanti sindaci. Doveva essere un'occasione di confronto e di dibattito fra il mondo imprenditoriale, istituzionale e politico per affrontare tutti insieme, senza distinzione di colori politici, le sfide e individuare le opportunità di sviluppo per il territorio del Cilento. Una chiamata accorata lanciata dalla NeoAssociazione Terre del Cilento. Invece gli stati generali del Cilento che si sono svolti sabato presso la tenuta Punta Galera a Palinuro, hanno visto la mancata presenza di amministratori provinciali e regionali, tutti assenti dal presidente della provincia Franco Alfieri, al neoconsigliere Vincenzo Speranza e al vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola. Quest'ultimo era atteso per le conclusioni dei lavori. Andiamo avanti ancora, Fondazione Ravello, Pietrantonio resta tre anni. E chiudiamo questa pagina, andiamo avanti ancora sul mattino di Salerno, andiamo ad approfondire il tema che abbiamo visto in apertura per la prima pagina del mattino di Salerno, sia la dispersione scolastica, il fenomeno che si sta ancora di più sviluppando e che vede tra i centri dove si registra la maggiore preoccupazione ai minori. Vediamo infatti il tema, l'articolo e il titolo su questa pagina di primo piano per quanto riguarda l'allarme sul tema dell'istruzione, minori senza scuola, un alunno al giorno segnalato ai giudici. Dei 1.626 studenti bocciati nel 2023 ben 336 non hanno mai frequentato in fuga alle primarie 56 ragazzini 248, quelli non ammessi alle superiori. Grave il fenomeno della dispersione ma primi segnali di flessione grazie agli interventi sul disagio sociale. Ogni giorno un minorenne è segnalato alle autorità giudiziarie per il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico. Per la precisione 28 studenti al mese sono finiti sotto la lente di ingrandimento della procura minorile e dei servizi sociali dopo l'allarme lanciato dai presidi e dall'ufficio scolastico. Andiamo avanti, in basso, baby bulli nella movida e in famiglia, sempre più aggressivi e violenti. 40 provvedimenti per 55 under 18. La procuratrice ha imparato, mancano strutture dedicate a cure psichiatriche. Restiamo sul tema scuola, previste 300 cattedre in più ma al nord c'è maggior disponibilità, concorsi per docenti, il direttore regionale Acerra integra i bandi. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti ancora sul mattino di Salerno. Parliamo ora della scossa di terremoto avvertita a Ricigliano. Vediamo. La terra trema nel Tanagro, conviviamo con la paura. Queste le parole dei cittadini, l'epicentro registrato a Ricigliano, tanta gente in strada, ma fortunatamente nessun danno, un lungo fischio, un rumore sordo, sappiamo che può accadere come nell'80. il movimento tellurico percepito fino al Vallo di Diano e nel Potentino, segnalazioni anche da Salerno. E poi cambiamo argomento, vediamo a centropagina nuovo picco di influenza, 20.000 a letto, 1.300 i bimbi. A colpi dei piccoli di età tra 0 e 4 anni sono soprattutto virus che attaccano le vie respiratorie perché sono più fragili. E chiudiamo questa pagina, lasciamo il mattino di Salerno, ci spostiamo ora sul quotidiano le cronache. Vediamo il caso a Salerno per gli emolumenti versati ai consiglieri comunali come gettoni di presenza. Vediamo nel solo mese di dicembre, vediamo gettoni di presenza, 41.833,75 euro nel solo mese di dicembre. Commissione ancora da remoto, soldi facili per amministratori interessati all'aspetto economico più che alla città. Manca anche il buonsenso di recarsi in comune per un confronto di persona. E' forse il caso di revocare la possibilità di collegarsi da un cellulare OPC. 41.833,75 euro è la cifra che ha sborsato il comune di Salerno per la liquidazione dei gettoni di presenza maturati nel solo mese di dicembre 2023. Solo pochi giorni fa il Governo nazionale ha approvato il decreto legge che prevede il numero di mandati illimitati per i comuni fino a 5.000 abitanti, mentre è salito a 3 il numero dei mandati per i comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti. Ebbene, nelle grandi città come Salerno nulla è cambiato, resta fisso il limite di due mandati per i sindaci, mentre consiglieri e assessori nei grandi tanto quanto nei piccoli comuni restano saldamente ancora al loro posto da anni. Andiamo in basso, la Fondazione Angelo Vassallo, sindaco pescatore, denuncia l'autonomia differenziata, complicità di tanti parlamentari meridionali nel tradire la propria terra per un provvedimento che impoverirà il Sud. Queste le parole e la valutazione che hanno il fratello di Angelo Vassallo alla decisione per quanto riguarda l'autonomia differenziata, il nuovo provvedimento del governo. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo ora ad Agropoli con il caso dell'Associazione Testene. Vediamo, il giallo dell'Associazione Testene tra richieste e tanti contributi. 1250 euro sono stati concessi all'Aps per un evento dedicato alle donne, non pervenuto il progetto sul turismo. L'assessore al turismo in un'altra occasione ha aiutato la realtà. La presidente Annalisa Siano, candidata col PSI, ha presentato un curriculum mendace. C'è un piccolo giallo ad Agropoli per quanto riguarda l'Associazione Aps Testene. La realtà è guidata da Annalisa Siano, con lei che per candidarsi col Partito Socialista italiano in appoggio all'attuale sindaco Roberto Antonio Mutali Passi, ha presentato un curriculum falso. Nel documento un atto ufficiale ha dichiarato di essere in possesso di un non meglio identificato tesserino giornalistico, superato il palese errore di esposizione in lingua italiana, cosa che ha da parte di chi Milanta di essere giornalista non dovrebbe accadere. E poi andiamo in basso, Roscigno, Pino Palmieri di Forza Italia attacca di nuovo la comunità montana degli Alburni. Si torna a parlare del mancato rispetto della parità di genere in seno all'ente dopo quanto accaduto in passato. E chiudiamo anche questa pagina. Ora andiamo sulla pagina sportiva. Questa sera la sfida che chiuderà la giornata di campionato di Serie A, la sfida Salernitana-Roma. Il nuovo allenatore della Roma dei Rossi arriva alla Rechi e sarà una partita fondamentale per i ragazzi di Inzaghi. Necessaria, fondamentale la vittoria e quindi aggiudicarsi i tre punti per poter continuare a sperare nella salvezza e nella permanenza in Serie A. E vediamo il titolo per il quotidiano Le Crona che Salernitana niente calcoli con la Roma serve l'impresa. Questo infatti è il titolo. Alla Rechi c'è la sfida proibitiva con i giallorossi. L'undici di Inzaghi dovrà provare a portare a casa i tre punti. Dopo le tre sconfitte, di cui due in casa contro Juve, Napoli e Genoa, i Granata proveranno a voltare pagina per alimentare il sogno salvezza. Vediamo qual è la possibile formazione che sarà schierata questa sera alla Rechi. Ochoa in porta Daniliuc e Ghiomber in difesa sulle fasce Zanoli, Bradaric, a centrocampo Basic, Martegani e Maggiore, mentre per l'attacco Candreva, Castanos e la punta Cionà. Questa è la possibile formazione. Con tutto il girone di ritorno ancora davanti non è ancora il momento di fare processi e funerali. È necessario però vincere. L'arbitro sarà Marco Di Bello di Brindisi e al VAR invece ci sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo. Questi dovrebbero essere gli arbitri della gara di questa sera. E chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro TGI è alle ore 13.45. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata.